I danari per la politica sono come le armi per la guerra. Mi spiace deludire qualcuno, ma la democrazia ha un costo. Entrano nel mio ufficio, frugano nei registri, cercano prove. Finanziamenti illeciti, chi l'ha mai negato? Ma non tutto serviva per l'apparato. Ma qualcosa ci restava attaccato alle dita. Siete voi che lo candidate? Un giudice che vi poteva inquisire e non l'ha fatto. Io non parlerò mai. Saranno altri a farlo. Tanti altri. Ma in Italia le cose stanno cambiando. Il peggio alle spalle. Alle spalle di chi? Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.